Buonasera, Vanni quando ha inventato questo titolo in performance di lingue sinestetiche e dialettiche d'azione deve aver avuto un afflato di sconfinata fiducia nei nostri confronti che noi sicuramente tradiremo e tuttavia sono un po' tranquillizzata dal fatto che è un po' previsto dal copione visto che il motto di quest'anno di Babel è non parlerai la mia lingua e dunque tutto sommato comunque vada sarà sufficiente, non parlerai la mia lingua, non parlare la stessa lingua è un po' il presupposto di questo incontro lo scontato che fra autore e traduttore dice la lingua non sia la stessa, quantomeno la lingua manovere in questo caso però non è proprio la stessa cosa, non parlare la stessa lingua lo abbiamo già sentito oggi pomeriggio perché c'era l'incontro con Claudia Durastanti può essere diverso da non parlare soltanto lo stesso idioma e questo mi è successo nel prepararmi a questa performance come la vogliamo canale insieme a Michel Fer perché non parliamo solo due lingue diverse ma abbiamo un'esperienza di lingua completamente differente Michel che appunto non vede quasi nulla dalla nascita conosce la lingua come flusso, come suono di parole per lui la lingua è un continuo movimento e appunto un'esperienza sonora per cui anche la scrittura in realtà è una razione orale e invece una traduttrice riceve la scrittura a getto continuo davanti alla scrivania sulla scrivania in una serie di pagine stampate nero su bianco che non solo quindi sono una forma completamente diversa di scrittura ma soprattutto sono fisse, sono certe nulla è più modificabile del famoso originale e intorno alla certezza dell'originale una traduttrice può poi sviluppare tutte le sue nevrosi e incertezze in questo caso invece Michel mi ha messo in grande difficoltà proprio perché l'originale è in continuo avvitamento vediamo cosa ne viene fuori in questo senso forse il nostro incontro è una sinestesia una sinestesia tra due forme di lingua diversa e quindi direi che cominciamo magari da questo quicia che cosa è per lui una sinestesia Michel, facciamoуки di 2 anni dopo che avevo tutta una sign 근�cie voulez dove era scrittura. e che in questo titolo del treffo è una performance per synesthetiche Sprache, potete uscire una cosa per te una synesthetica? Ora facciamo un film in Schwarm. Perfetto. Abbiamo cominciato il festival con una storia in inglese, ora facciamo lo stesso in italiano e in italiano, e dopo ci sono i luci per questo anno. Sì. Sì, non ho preso punti, scusate, mi ha un po' sorpresa. Allora, ha detto che invece, anziché rispondere alla mia domanda, cominciamo con il rossame che all'inaugurazione ha fatto in inglese, e che invece adesso faremo in tedesco e in italiano, e poi non ho più ascoltato, perché cercavo i fogli. Ma sai delle scusazioni? ...dassi che ci sono i luci. ...e dopo di noi verranno spente le luci. ...per questo anno. ...per questo anno. Ok. ...dassi che si chiama. ...unter'e un'allegra, luminosissima lampada. ...e poi, per il resto al buio testo, c'è un uomo. ...c'è un uomo in uno sciame di zanzare, che lo fa dannare il bambino. ...e poi, ogni tanto, una... ...punge. ...manchmal... ...sticht eine. ...almeno non sopra, perché sopra è calcato il cappello, sulla testa e sulla nuca c'è il svolto della giacca. ...manchmal... ...sticht eine. ...e poi, ogni tanto, una punta. ...e poi, l'uomo si strega il collo che brucia, il naso che brucia, la guancia che brucia. ...dann reibt der Mann jeweils den heissen hals, ...di heisse Nase, ...heisse Wange. ...ma di gran lunga, troppo piano, così quelle quasi non se ne accorgono. ...oggi tanto una punta. ...manchmal... ...sticht eine. ...heisser Hals, ...heisse Nase, ...heisse Wange. ...manchmal sticht eine. ...Uhe, ...is da unangenehm. Lui cosa può farci? Ogni tanto grida, ...Giustizia! ...Nell'oscurità. Onore, onestà! ... ...i grauzam per langsam, ...i idioti surtes aus dem Schwarm, ...i idioti surtes aus dem Schwarm, ...manchmal sticht eine. ... ...Giere, ...gerechtigkeit! ...Manchmal sticht eine. ... 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 a una Handlung può fare, perché anche questa è Atmosfera e Atmosfera è giusto come la Handlung è stessa una Atmosfera è anche un Mensch e un Character è un Mensch e una Handlung è un Mensch e un Tier è un Mensch tutto è un Character questo è importante per me è come in un film questa per esempio è una sedia e se io continuo semplicemente a dire sedia non ho gioco niente di nuovo per me invece è importante contestualizzare la sedia ovvero continuare a mettere la sedia all'interno di una descrizione e descrivere la sedia da davanti da dietro e in questo modo è come se io con le parole accerchiassi la sedia in modo che leggendo si abbia un'esperienza della sedia della sedia come corpo nello spazio nella testa è un po' come nei film western quando un determinato setting una determinata strada ad esempio viene vista viene inquadrata da davanti da di fianco e da dietro a quel punto lo spettatore ha un'idea dell'uomo della palcoscenico in cui viene inscenata la scena e per me la scena e l'atmosfera sono la stessa cosa coincidono e hanno un carattere per me uomo animale è tutto atmosfera ed è tutto ed è tutto ed è tutto scena è tutto personaggio adesso singo un'idea per me ascoltare cosa è passata se non non più flac lezzele adesso ci canta una canzone di modo che si senta cosa succede quando uno racconta più in modo piano in modo piatto ma cantando è un'idea è un'idea che è un'idea che una canzone che si senta in un'idea di un'idea che non si senta è molto facile una canzone che è un'idea una canzone che è un'idea Una cazza viene in una casa di un uomo e una padella grande abbastanza. A cat has strayed into the apartment of a man. He's got butter and a frying pan, which is big enough. He knows nothing of slaughter. He starts working on the cat with a knife that's been in the drawer for ages. Sorry, I'm a predator. I'm 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 a predator. I'm a predator. The blood splatted on the floor is black, of course, butter, weight, butter, man, butter, ...wait, butter зizzle, butter, zizzle, zizzle, man, butter can' zizzle, the man can't wait. Roboto can't sizzle, the man can't wait Roboto can't sizzle, the man can't wait Roboto can't sizzle, the man can't wait He drinks wine within which he is black Of course he can see the transformation The cat becoming flesh, y'all The cat becoming flesh I'm a predator, I'm sorry I'm a predator I'm sorry I'm a predator I'm sorry I'm a predator I'm a predator, I'm a predator I'm a predator, I'm a predator I was born in the West, salt and pepper I'm a spicy I'm a predator I was born in the West, salt and pepper I'm a spicy I'm a predator I'm a predator I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I testi di Michelle sono surreali spiazzanti anche per la traduttrice a volte intrecciano elementi onirici, surreali eccetera ci sono un sacco di animali questa è una cosa che piace molto alla traduttrice tra i miei preferiti c'è uno nell'ultima raccolta che si titola che letteralmente vuol dire più o meno come sventrare una faraona e racconta con enorme dovizia di dettagli questa faraona viene spennata, spellata, riscerata, disossata eccetera questa canzone del gatto l'avete sentita anche voi la domanda è come ti vengono queste idee se c'è un gusto, un senso anche dell'insensato di divertimento es gibt viele Tiere in una composizione che mi è molto piaciuto es gibt sehr viele träumeriche elementi traumwanleriche balle surreale come come vengono l'animazione l'animazione nel in del texto, che poi liamo, passare un'einforzio. Come si arriva a queste idee surelle? Gibto il senso di un senso di un senso o di un senso? Il senso di un senso di un senso di senso di un senso. Per il senso di un 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 senso. Perché noi non dovessi che crederemo saperemo, Non c'è un'ottima fisica che dice che i miei occhi sono solo i miei occhi dei bacti. Non ho capito in questo senso. Dei occhi sono solo le occhi di dei bacteri. Dei bacteri. Dei bacteri sono positivi. Noi sono nulla. Dei bacteri utilizzano te per vedere. Ok, ora ho capito. Non volevo essere musica. Non volevo parlare. Volevo parlare sicura. Volevo parlare sicura. Volevo parlare sicura. Sì, c'è sicuramente un senso dell'insensato. Per quanto noi uomini, noi esseri umani possiamo valutarlo. Perché non crediamo di essere particolarmente intelligenti. C'è ad esempio una fisica di cui ho dimenticato il nome. Che dice ad esempio che i nostri occhi sono soltanto gli occhi dei nostri batteri. C'è delle batteri che abitano nel nostro corpo attraversi quali vediamo. dove c'è? E dove c'è? In cui c'è? aus dem Traum und aus der Angst ich bin ein Angstpatient und die Kehrseite die produktive Kehrseite der Angst ist Fantasie und dann darfst du aber davor keinen Halt machen dann musst du halt damit losgehen es ist eine Möglichkeit ein Teil meiner Ängste in eine andere Richtung zu treiben als in die Obsession oder Destruktion Da dove vengono le mie historie? Le mie historie vengono dai sogni e vengono dalle paure Io sono una persona paurosa e il rovescio della medaglia di queste paure è la fantasia a patto e che si può usare produttivamente a patto però di non porle freni e quindi un modo per utilizzare produttivamente almeno una parte di queste paure affinché non prendano la direzione dell'ossessione o della destruktività è proprio e che si può usare una chiave fantastica e che si può usare e che si può usare e che si può usare un'ottima e che si può usare un'ottima potenzial utilizzare perché toccano il cuore dell'uditorio e fanno in modo che il pubblico riscopra risenta la propria fantasia e trovi un nuovo accesso alla propria fantasia che spesso viene trascurata nel lavoro quotidiano e invece la più grande forza e il più grande potenziale dell'umano ma anche dell'umanità nel suo complesso se dobbiamo prima o poi scappare tutti su Martin in un esodo dobbiamo inventare adesso qualcosa per farlo dobbiamo inventare insieme e su questo mi pare possiamo leggere un testo un po' particolare di Gesù si intitola che trovata ed è appunto un testo sulla fantasia Una volta che si tratta di un'amore il mio figlio della mia madre. È un'amore che si tratta di un'amore 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 di un'amore. Si tratta di un'amore di un'amore in Forizia per ora che dà un'amore di un'amore di un'amore di un'amore di un'amore di un'amore di lui sempre c'è e anne qui. Partie, Sogno e Tochter vittore e la mamma in la mano in la mano e stiamo in la mano in la mano e stiamo in la mano in cui la mamma resta e sede e sede e sede fino a che la mamma resta di una famiglia sprega e sede sprega e sede e sede durch den Mond, um ein sauberes Loch zu hinterlassen der Rückkehrwege, sie rauscht hinaus und weiter hinaus und weiter hinaus und weiter hinaus und weiter hinaus bis an den toten Punkt an dem das Licht der Sonne endet im toten Punkt glückt es, der Mutter zu wenden worauf sie zurückstrebt, sie gerät ins Licht zurück, schiesst mit violettem Hellen durch das Loch im Mond und kommt im Schoss der Familie zum Erliegen die Tochter verschweigt den Traum man lebt das Leben der Familie von früh bis spät eines frühen Tages aber dann weckt die Mutter verfrüht den Mann, den Sohn, die Tochter es fällt mir ein, dass ich mir aus Material einen Helm kreiere benommen, überdauert die Familie, die Vorbereitungen der Mutter, aber dann stellt sie sich mit violettem Helm inmitten der Familie auf die gemäss ihren Anweisungen die Finger ineinander verpflichte auf das die Mutter das Geflecht besteige Vater, Sohn und Tochter gehen die Mutter in die Mitte in die Knie und auferstehen auf das ich die Mutter senke und hebe bis es genug ist und es die Mutter aus der Schoss der Familie hinaus sprengt sie brecht hinaus und weiter hinaus gerät durch den Mond den sie mit violettem Helm durchschlägt sie rauscht hinaus und weiter hinaus und weiter hinaus und weiter hinaus bis an den toten Punkt an dem das Licht der Sonne endet verpflegst welch Einfall wie berauschend verkündet die Mutter obwohl sie nicht zu hören ist daheim tanzt die Familie im Kreis und singt laut Hals und feiert die unermessliche Potenz des eigenen Geschlechts im toten Punkt glückt es der Mutter zu wenden worauf sie zurückstrebt sie gerät ins Licht zurück schiesst mit violettem Helm durch das Loch im Mond und kommt endgültig vernünftig im Schoss der Familie zu mir liegen die sie aufs allerherzlichste empfängt und beglückwünscht schiesst mit schiesst 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 In famiglia nessuna fantasia, la madre no, il padre neanche, niente fantasia, la figlia, niente fantasia, il figlio, nessuno ha potenziale, vivono la vita familiare da mani a sera e la notte si distendono nei letti di famiglia. Una notte però, la madre si aggira in un sogno della figlia, le salta in mente di creare con materiale anomalo di un viola sconcertante un casco magico dalla punta sconfinata. Si dispone con il casco viola al centro della famiglia che intreccia le dita finché lei salga su quel reticolo adibito a rampa di lancio. Il padre, il figlio, la figlia calano con la madre al centro, il ginocchio risorgono così che la madre abbassi, si sollevi, calano e risorgono finché può bastare. Dai, il gremo familiare sparo, la madre che schizza fuori, sempre più lontano collide con la luna, la sfonda con il casco viola lasciando un buconetto per la via del ritorno. continua a strecciare fino al punto cieco in cui finisce la luce del sole, nel punto cieco riesce a svoltare e riparte a rovescio, rientra nella luce, schizza nel buco della luna con il casco viola e torna a distendersi nel greco familiare. La figlia non racconta del sogno. Vivono la vita familiare da mani a sera. Ma un mattino, la madre si sveglia anzitempo, il padre, il figlio e la figlia. Mi salta in mente di creare un casco viola con una punta sconfinata. La famiglia assiste basita ai preparativi della madre. Poi la madre si dispone con il casco viola al centro della famiglia che dice a distruzioni, intreccia le dita finché ne salga sul reticolo di lancio. Il padre, il figlio e la figlia cadono con la madre al centro e ginocchio e risolvono così che la madre si abbassa e si sollevi. Cadono e risolvono finché può bastare. Dal greco familiare sparano. La madre che schizza fuori è sempre più lontano, corrida con la luna, la sfonda con il casco viola, continua a strecciare fino al punto cieco in cui la luce del sole finisce. Magico. Che trovata come esaltante annuncia benché nessuno possa sentirla. A casa la famiglia canta forte, balla il cerchio e celebra la sconfinata potenza della propria stir. Nel punto cieco la madre riesce a svoltare, riparta rovescio, all'entra nella luce, schizza con il casco viola nel buco della luna e finisce a distendersi per sempre assennata nel grembo familiare accolta di cuore con congratulazioni. Congratulazioni. Un'altra cosa insieme a questi aspetti mirci, surreali di Michelle è senz'altro forse il personaggio fondamentale in tutti i suoi testi e la metamorso, la trasformazione. C'è sempre qualcosa che si trasforma. C'è anche molto la presenza della morte nei suoi testi ma non come qualcosa di definitivo ma proprio come una fase di questa trasformazione tanto che non fa quasi paura. e mi chiede con me maia cosa importante. E' un'altra delle Hauptelemente delle Texte, che è la metamorso, la trasformazione, che veramente molto spazionano, e la metamorso, la metamorso, la metamorso è una fase di questa metamorso. e la metamorso, la metamorso, la metamorso è una fase di questa trasformazione La soluzione che c'è, è di accepterare la transformazione. È tutto in stendio di movimento. Questo luogo è un luogo e un giorno. Noi pensi che ora sia solitamente, ma in una seconda seconda potrà un piede a il corpo. O anche non. Ma una volta sarà in grado. E noi non siamo qui. La risposta è semplice, se si vive immerso nel tempo non si può essere conservativi o conservatori, qui vi lascio la traduzione, perché il tempo continua a scorrere ed è un grande spreco sia di energia sia a sua volta di tempo tentare di trattenere questo cambiamento. Quindi se si vive nel tempo bisogna essere all'interno, bisogna seguire nel flusso, essere in continuo progresso, in continua progressione e accettare questa trasformazione e questo costante movimento. Anche la casa qui, l'edificio in cui ci troviamo adesso, che può apparire solido in questo momento, ma sicuramente prima o poi crollerà e da un momento all'altro anche adesso potrebbe cadere una pietra in testa, qualcuno non lo farà, ma insomma prima o poi tutto finisce e quando questa casa crollerà non ci serve più. Questa cosa potremmo per la trasformazione adesso potremmo adesso potremmo adesso potremmo adesso potremmo? E quindi ogni cosa potremmo invece potremmo adesso potremmo essere all'interno? Però il nostro potremmo adesso potremmo invece di essere alla conoscenza, per ogni volta di円ene potremmo, perché conoscenza può potremmo anche a quella situazione. Comoscenza per iniziare attrappone un attrappone, per inizio l'interno alla situazione, In questa storia è diversa, devi andare fuori da cose, ma dopo l'unice è bene. Io lascio che non mi racconto. Io faccio solo un po' piccolo. Io ho chiesto se volevamo leggere qualcosa che fosse un po' un himno a questo gusto della metanografosi. E lui mi ha detto che vorrebbe leggere un ultimo testo sul pastore, poi lo sentirete, e che è una sorta di contrapunto al testo che ho letto inizialmente sullo sciame delle zanzare, perché quest'ultimo testo che adesso leggeremo mostra che non sempre per seguire il movimento ci si deve muovere, mentre nel testo del sciame se si sta fermi si viene continuamente punti dalle zanzare, in questo testo si mostra che si può anche restare fermi in uno stesso luogo e bisogna attraversare determinate peripiezie, però alla fine tutto finisce bene. Lui mi leggerà solo un pezzo in tedesco perché è abbastanza lungo e io cercherò di leggerlo in italiano. Nass klebt der Torf, fett steht das Gras. Ein Männlein kriecht, schwarz vom Torf beschmiert, grün vom Gras kaschiert, auf allen vieren bergwärts, um auf der Kuppe zu schauen, wie der Schafhirte sich gebärde. Der kleine Mann kommt forsch voran. Un zuvall. Adesso è un po' difficile da seguire, provo a leggerlo. E allora sì, che gli infischia al pastore. Attacca uvida la torba, si erge, subosa l'erba, striscia a carponi un ometto nero imbrattato di torba, verde velato dall'erba, verso la vetta del monte, per guardare come si comporta sul cucuzzolo il pastore. L'omino procede deciso, fiuta, raso terra, odor marcito, l'ala acetosa e laggiù ancora ed erba varia eventuale. Presto si imbatte avanti il muso duro nei piedi neri del pastore. E così sbotta. Sarà mica che il furfante se ne scappuì in panciolle. E di fatto, a che il nano lo urti da basso, quello sopra non fa caso. Muschio tra le ciocche, imperlata, pioggia dalla faccia, marida la casacca di lino nero di gambe dai piedi alle cosce e all'angolo della bocca sbuca, sbracata, un'erba quasi appassita. Maledetto, sarà mica che quel montone di primo pelo veglia il pura pecore e agno in lino. E di fatto, i grandi vadano ai piccini e a se stessi, arruffati incendono neri di torba nell'erba verde dei pascoli. A questo passi, che l'erba da sé cresce come da sé si pace, però una pecora si è rotta una gamba, per il prato viene più zoppiconi che a quattro zampe. Arrabbiato, l'omino riattraversa fino a valle la terzoa e il paese presenta la mentela. Subito salta in su, omini e donnine, metà paese. Presto l'altra metà è la grassoccia, buffa ciurma dei bambini. Omini e donnine strisciano, neri imbrattati, verdi velati lassù. Bambini a seguito di fatto, il pastore è il panciolle sul colle. Non può essere che quello lì si mette giù e chi lo smuove più. Si indigna il branco di gente che balza su dall'erba, incede i pestoni fin vicino all'uomo, dietro balza su dall'erba i bambini, camminano tastoni, cadono a frotte lunghi tirati nel fango dei prati, si tirano su le facce scure e neri di torba, scaltano, saccodano. Ehi tu, si lamenta il branco. Ma l'uomo non si fa bastare a riposire. Allora per un po' lo colpiscono di concerti. Contadini coi bastoni, le donne non ne hanno, raccolgono le gonne, raccattano pietre, i bambini strillano, vogliono scagliarne di propri, ma per ora restano in posizione con la munizione. Rimangono feriti dai colpi della truppa esagitata, strillano, piangono e ritornano ammaccati nelle ritrovie. Stanco della giornata, si ritira il paese al pavere, ma il giorno dopo già rimontano, strisciando lassù per vedere se è cambiato qualcosa e se quello dorme ancora. E di nuovo il giorno dopo, curiosale, amminare ancora più solo. E poi gli viene a noia. E chi se ne infischia? Il monte in selvatichisce, il bosco lo ricopre e allora sì che gli infischia il pastore. La faccia comincia a sbrinare, le perle genugiale a scivolare e lui si alza. Tra le ciocche e musche umani dalla casacca di lino nere, le gambe dai piedi alle cosce, sputa l'erba appassita, stecca la zampa, la pecora acciaccata. Una volta rinforzata, tutto a un tratto, può essere meglio una sana. Si primura che rimanga libero il cocuzolo perpacere e desistere in pace, mungere pecore, tose e gregge e finché vivere ha per sé il più bell'angolo di mondo. Abbiamo tempo magari per un'ultima domanda che mi interessa fare anche, cioè non che gli altri mi interessassero, mi interessa personalmente fare anche, e cioè che effetto gli fa il palcoscenico, perché chi lo conosce sa che fuori dal palco è diverso che sul palcoscenico. Io credo che questo spazio delimitato abbia un effetto particolare su di lui, una specie di lieto. Adesso ti lo chiedo. e che non è un'attività, che non è un'attività, che non è un'attività, La persona che è davvero alta e dice che non vuole parlare la scuola, ci sono le persone, ma non sono molto più frequenti. E questo è un posto che per me è controllabile, Questo significa che c'è molta libertà. Io sono sicuramente più leggero a la scuola che a l'interno. E' bello schwarz. E io ho il microfono. C'è qualcosa di quello che fa una sorta di felice. ma il resto è un posto gestaltato e potenzialato tu puoi iniziare a rinca è stata fatta da rinca mentre voi iniziare a rinca e quando mi sono rinca mi sono sempre fai un po di amici Sì, il palcoscenico è un luogo che io conosco, è un luogo in cui sono meno in imbarazzo, provo meno vergogna che all'esterno. Tutta la zona esterna, l'area esterna è una zona ad alto rischio, mentre che qualcuno sa che sul palcoscenico è picchigli giù dicendo che non sei adeguato, capita piuttosto raramente. Quindi per me il palcoscenico è un luogo controllabile all'interno del quale vado di una grande quantità di libertà. E anche questo per il microfono, il fatto che sia nero, è un luogo che è in qualche modo organizzato per essere un luogo della potenzialità, un luogo in cui ci si possa esprimere e invita a farlo. Mentre all'esterno, quando mi esprimo, mi lascio andare, ho sempre paura che il buon Dio in qualche modo poi mi punisca. e anche una domanda. Una domanda. Una domanda. Una domanda. Perché tu ti racconti. Stai a tu scrivere. ho aggiunto questa domanda lui è un narratore che appunto narra i suoi testi però ovviamente i testi escono anche in forma di libro e gli ho chiesto se per lui c'è una differenza tra il pubblico di ascoltatori e il pubblico di lettori non c'è nessuna differenza chi non ho chiesto non ho chiesto è per me falsche ma questo è giusto sia nel pubblico ma quando io ho chiesto chi non 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 vuole sentire una voce è al posto sbagliato non è diciamo così il lettore giusto per me o io non sono il scrittore giusto per lui che sia nel libro che sia live in una performance chi invece ascolta volentieri una voce chi ama pensare autonomamente chi ama dar corso e seguire le proprie immagini interiori che io gli offro nei miei testi aprendo un mondo un cosmo insomma ecco allora questo è sempre è sempre a suo agio con i miei testi che siano scritti o che siano si siano raccontati io lo colgo sempre come come ho tra la braccia aperte e adesso devo cantare ancora una canzone per Vanni e poi chiudiamo è una canzone che ci ha dato sulla quale abbiamo abbiamo discusso in Brasile e non so se sia particolarmente adatta adesso vanno a canzone che essere andata imiento e non so se che a decent idea I throw a handful of gravel of a brave I'm in trouble I'm in trouble I'm in trouble I'm in trouble I don't know where to go 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 It is still too early It is still too bright Trucks are driving on the highways There are still birds in the woods The radio stations sing Clocks are working in the store As I enter a store And spray myself with perfume Everybody wants to achieve something And soon or later There will be arguments at home Sons are no longer small Neither are they grown up None of them have become great men For there to be a rainbow It has to rain again sometime I don't know where to go I don't know where to go For there to be a rainbow It has to rain again sometime I don't know where to go 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 It's gotten late somehow I ended up in a bar after all People have become complacent You rarely encounter foxes these days I'm in serious trouble Out of pity a woman buys me a drink I don't drink scotch Fires are burning 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 And so on is with the band So on and we could keep on forever like this Roberto Cardo Thank you very much Aplausos